Buonasera da Radio Copp 76, la radio di Conf Cooperative Viterbo. Questa sera con noi abbiamo un giovanissimo responsabile della società cooperativa editoriale che edita a De Carta. Con noi è Manuel. Buonasera. Buonasera. Allora Manuel, ci ricordi intanto quando è nata la cooperativa e con quali progetti? Allora la cooperativa è nata il 9 maggio 2013, è nata come cooperativa editoriale. Prima di tutto il progetto sarebbe di far inserire delle persone nell'ambito lavorativo. Comunque dovrebbe essere un trampolino di lancio, partendo da Viterbo che è una città che purtroppo riguardo a questo settore non offre molto. Sono tutti giovani quelli che fanno parte della cooperativa? Siamo un gruppo abbastanza eterogeneo perché siamo sei componenti di cui due persone con più di 50 anni e gli altri invece con un'età che varia dai 20 ai 30 anni. A livello invece di specifiche lavorative di chi stiamo parlando? Nel senso le figure professionali. Esatto. Siamo, pure questo è un gruppo abbastanza eterogeneo perché ci sono delle persone che si occupano della parte della pubblicazione redazionale, un'altra parte si occupa delle vendite e altri della grafica. Allora cerchiamo di tornare un po' alle origini. Cioè tu hai detto la cooperativa è nata un anno fa, l'obiettivo era solo quello di editare questo periodico o aveva anche altri scopi? La cooperativa per il momento come scopo principale è l'edizione di questo periodico, però trattandosi comunque di una cooperativa che si occupa di comunicazione, l'idea iniziale era di costituire la cooperativa per poi farla anche ingrandire. Comunque ci stiamo muovendo anche in questa direzione. Stiamo tentando di acquistare delle macchine per poterci dedicare anche ad altri lavori che non siano solamente la rivista. Comunicazione intende anche organizzazione di eventi, promozione... Comunicazione a 360 gradi. Quindi anche di eventi. Allora invece vogliamo raccontare in che cosa consiste Descartes, di che cosa si tratta e qual è la sua particolarità. Descartes è una rivista mensile di divulgazione culturale, pure questo è un termine che racchiude varie particolarità, perché una parte sono dei contenuti divulgativi che non necessariamente hanno a che vedere con la città di Viterbo, per quanto comunque essendo una rivista del territorio si occupa anche di tematiche riguardanti questo utico. La rivista divisa infatti in due parti, una parte anteriore che ha questi contenuti divulgativi, invece una parte posteriore che serve più per il sostentamento economico, perché essendo una distribuzione gratuita si trova gratuitamente nei bar e quindi ha bisogno comunque di sostentarsi economicamente in qualche maniera. E questo è tramite la parte posteriore principalmente che è più mirata alla pubblicità. La particolarità la vogliamo spiegare, visto che per radio chiaramente non è possibile visionare questo prodotto, la particolarità proprio di questa rivista, cerchiamo di comunicarla questa cosa anche al tatto, è una rivista assolutamente sui generis. Abbastanza particolare, o meglio, è una cosa paradossale perché per decenni uno è stato abituato a delle riviste cartacee, ma soprattutto nel territorio viterbese sono cresso che scomparse. Noi stiamo credendo sul cartaceo, ma per quanto abbiamo anche una parte web che pure questa è in fase di avvio, comunque ci siamo voluti differenziare dalle altre redazioni locali proprio puntando sulla carta. Per questo motivo è stato scelto il nome che è De Carta e poi anche la scelta dei materiali, infatti utilizziamo una carta uso umano molto ruvida al tatto, insomma molto ruvida e piacevole al tatto soprattutto, è una delle caratteristiche che notano di più i nostri lettori. Oltre, certo, curiamo molto anche la qualità delle immagini e dei contenuti. Non siamo una rivista di sola e semplice pubblicità. E dal punto di vista della grafica invece la cosa particolare è il fatto che a metà praticamente bisogna invertire la rivista per poterla leggere. Sì, è un'importazione particolare, si legge sia da un lato che dall'altro, infatti non abbiamo la quarta di copertina, diciamo. La quarta di copertina è rappresentata da un'ulteriore copertina al quale abbiamo dato il nome Upside Down, che appunto vuol dire sotto sopra in inglese. Questo è anche un omaggio a un'altra rivista che usciva localmente una decina di anni fa che si chiamava Diritto Rovescio e nella quale è redditore mio padre. Quindi da questa idea di qualche tempo fa, poi dopo, è nata anche questa di tirare questa parte al contrario. Quindi una tradizione di famiglia. Sì, una tradizione di famiglia. Comunque io stesso, che mi posso definire il promotore di questa iniziativa, tra i fondatori della nostra società, comunque sono da sempre come famiglia in questo settore. Ricordiamo qual è il nome preciso della cooperativa. La cooperativa si chiama Lavalliere, che è un nome che rimanda al nostro logo, sarebbe un fiocco. Infatti il fiocco Lavalliere era un… come dire, si potrebbe definire il fiocco anarchico, comunque questa sarebbe la simbologia. Non tanto con una connotazione politica, quanto per la libertà dei nostri contenuti e del nostro modo di lavorare. Ecco, in che cosa vi volete distinguere da quello che invece si trova normalmente anche sui banconi dei negozi, dei bar? Comunque non siamo vincolati a nessuno. I nostri contenuti sono di nostra ideazione, non vengono influenzati da sponsorizzazioni o comunque da qualche potere. Proprio perché comunque come persone siamo in questa maniera. liberi. Liberi. Anche la stessa società comunque al suo interno, diciamo che non è strutturata in maniera troppo gerarchica. Comunque ci sono dei coordinatori, ma poi dopo agiamo abbastanza autonomamente nel nostro lavoro. E tutti i soci partecipano all'edizione del periodico? C'è un direttore responsabile, si occupa della grafica, dei contenuti redazionali. Quindi alla fine tutti? Tutti quanti, assolutamente. Che periodicità ha Descartes? Descartes è un mensile, esce in 11 mesi su 12, perché ad agosto prima non c'è l'uscita. Ok. E a livello invece di target, qual è il vostro target tipo? Cioè quello che volete, diciamo, che avete in mente di colpire con i vostri contenuti? Il nostro target non è molto specifico, perché comunque abbiamo dei contenuti che tentano di rivolgersi più o meno a tutte le fasce di età. Comunque principalmente rimaniamo una rivista che viene apprezzata forse di più dalle persone dai 30 anni in su, forse proprio per un'abitudine maggiore a leggere informazioni su carta piuttosto che su formati digitali. E il web, anche se chiaramente ha una posizione, diciamo, non predominante nel vostro lavoro, comunque cosa fa? Mensilmente richiama il cartaceo o richiama solo alcuni dei contenuti? Sicuramente mensilmente richiama il cartaceo. Comunque noi forniamo anche una versione sfogliabile sul computer o sul tablet o sul cellulare della rivista. Poi comunque ci sono dei contenuti extra che difficilmente potrebbero trovare spazio sul cartaceo, che comunque, ricordiamolo, è uno spazio limitato in quanto proprio a numero di carattere. Non si possono inserire degli articoli esageratamente lunghi. Invece sul web ci possiamo concedere anche di fare degli approfondimenti maggiori. Ma la rivista, infatti, spesso all'interno della rivista sono riportati dei codici QR che la legano alla parte web. Comunque non è che lavoriamo in antiche. sentiamo sempre di collegare le due cose. I contenuti che vengono pubblicati su web sono di vario tipo. Pure questi non sono strettamente legati alla città di Viterbo. Non necessariamente. Possono esserlo, ma possono essere di altro genere di interesse. Abbiamo uno dei nostri detattori che è uno spazionato di sport e anche di calcio spesso pubblica delle sue memorie riguardo proprio a netto di calcini. E a livello invece di tipo di giornalismo? È un giornalismo di approfondimento, di inchiesta, di cronaca? È un tipo di approfondimento, ma con un taglio molto personale. Spesso si parla anche di esperienze proprie nei nostri articoli. Comunque gli viene dato... Come una sorta di blog su carta? È una specie di blog su carta, si può dire. Non tanto forse appunto per le esperienze dirette, quanto perché si tende a scrivere le proprie impressioni. Non è un tipo di scrittura distaccata. Non fredda impersonale. Non fredda impersonale. È molto personale, sì. Per quanto comunque poi si tenta di lasciare... Di fornire un proprio giudizio, non tanto per imporlo, quanto per poter lasciare anche un giudizio finale al lettore. E la rubrica fiore all'occhiello qual è, secondo il tuo parere? Secondo il mio parere non esiste veramente una rubrica fiore all'occhiello. Forse esiste un articolo principale per ogni numero, tanto che la copertina stesso segue questa logica. Viene scelto l'articolo principale, poi comunque come la logica della maggior parte delle riviste di questo tipo. L'articolo principale si guadagna la copertina, quindi direi che più o meno siamo tutti sullo stesso livello. La valutazione è comune o la fa solo il direttore? No, penso abbastanza è comune. Quindi è condivisa fra i soci? Sì, non siamo in litigio su questo. Non ci sono posizioni gerarchiche ben definite, diciamo? No, in questo siamo vagamente anarchici pure. Ascolta Manuel, a proposito, il cognome ce lo ricordi che non l'abbiamo detto all'inizio? Per completo mi chiamo Manuel Gabrielli. Ah, ecco. Manuel, a parte ricordiamo anche che sei veramente giovanissimo. Quanti anni hai Manuel? Sono del 91-23 anni. Ecco, quindi un bellissimo esempio di gioventù che ancora veramente crede, spera, nella possibilità anche di, non solo di creare uno strumento di lavoro per sé e per gli altri, ma anche di creare qualcosa di originale, perché ricordiamo appunto che la cooperativa si concentra su questo prodotto editoriale che è veramente innovativo anche rispetto a ciò che normalmente si trova e si legge. La carta, ci piace comunque considerarci un po' l'innovazione su carta. Che non è poco, anche perché… Un'altra cosa, perché appunto parlare di innovazione sulla carta è abbastanza lì, se si parla di innovazione su web. Esatto. No, anche perché il piacere di, insomma, di sfogliare il giornale, diciamo, voi lo avete centrato in pieno, ecco, come risultato. Parliamo un po' invece delle difficoltà, quando è nata dei carta, se ce ne sono state, o se avete trovato, diciamo, la strada abbastanza spianata, ma non credo, nelle vostre attività. La strada non è spianata manco adesso, siamo nati il 27… come decarta, il nostro primo numero è nato il 27 giugno 2013, è stato distribuito all'interno di Caffeina, infatti avevo parecchie pagine dedicate proprio al festival. Da allora siamo usciti con 11 numeri e la difficoltà principale è proprio questa di essere un free press, distribuzione gratuita. Comunque noi ci dobbiamo cercare la pubblicità ogni mese. Non è difficile, intanto, o meglio, è molto difficile, non soltanto a livello locale, probabilmente anche a livello nazionale, ma a livello locale lo è particolarmente per una questione un po' culturale, un po' economica. Comunque non si fa molta attenzione a questo genere di iniziative nel territorio viterpiesi, forse più per una questione di arretratezza dello stesso. Questo è un po' il prezzo che bisogna pagare, credo, per essere liberi anche nello scrivere. Sì, sicuramente. Comunque, appunto, come prodotto io lo definisco, noi lo definiamo un prodotto abbastanza innovativo, perché comunque, per quanto si siano alternati altre edizioni comunque con simili intenti nel territorio, che comunque non hanno avuto vita facile e non sono durate nemmeno moltissimo tempo. Proprio per questo motivo, comunque, perché è difficile, come dire, catturare l'attenzione verso certi temi, certi temi che non a tutti interessano, paradossalmente non a tutti interessano la storia del proprio territorio. Però in questo vorrei fare una precisazione, perché poi dopo, quando si parla in questa maniera di... Comunque, come se fosse una critica nei confronti del lettore, vorrei precisare che non si tratta di questo. Comunque, noi stiamo tentando proprio di catturare l'attenzione dei nostri lettori, anche quelli che al momento, adesso, ancora non lo sono, perché comunque la responsabilità nella comunicazione è sempre del mittente, mai del destinatario. Quindi, comunque, stiamo tentando di lavorare in questa direzione, per poter essere degli efficienti comunicatori. A questo proposito, fate anche qualche attività correlata per promuovere il prodotto, comunque farlo conoscere il più possibile? O avete notato che qualcuna delle vostre attività, in qualche modo, ha avuto questa rispondenza? Al momento ancora non stiamo facendo altre attività per quanto, comunque, sia tra gli obiettivi della rivista. Comunque, in questo momento, noi siamo impegnati proprio nell'edizione, perché non è un lavoro facile. Comunque, i fondi non sono molti e ci servono tutti, al momento, per andare avanti con l'edizione. Poi, sperando in un futuro più florido, speriamo, appunto, di poter organizzare anche qualche evento per promuovere la rivista e, allo stesso tempo, promuovere l'evento con la rivista. Quindi, al momento no, ancora non abbiamo... Invece, parliamo un po' del fatto che, nella tua memoria di questo anno di edizione, c'è qualcosa che ricordi di particolarmente bello, efficace, che è uscito e che ricordi con orgoglio? Beh, mi ricordo benissimo il nostro primo numero, perché, comunque, pure per me era la prima esperienza, probabilmente anche per i miei sogni di questo tipo. Quindi, mi ricordo bene le corse per andare a distribuire la rivista e, comunque, la distribuiamo sempre noi a Viterbo. Sono 3.000 copie di media, ma poi, dopo, per i grossi eventi, come è stato Cassina l'anno scorso, ne abbiamo fatte 3.000. Quindi, per quanto non sembri, forse, soltanto a parlare così di numeri, sono tantissime, non finiscono mai. Sì, credo. E li distribuite in tutta Viterbo e provincia o solo Viterbo? Per il momento è principalmente Viterbo. Ci stanno alcuni numeri che riescono ad arrivare fino alla provincia ed altri addirittura a Roma. Comunque, la parte maggiormente coperta è sicuramente Viterbo. Comunque, a parte l'emozione della prima uscita, le altre emozioni sono state la possibilità di incontrare moltissime persone. Comunque, il bello di questo lavoro, forse, sono più proprio le conoscenze che si fanno che altro. E ricordi, magari, qualche personaggio che hai intervistato, qualche episodio particolare che ci vuoi raccontare? Mi ricordo benissimo la prima persona che ho incontrato, proprio per il primo numero. Perché il primo numero aveva come copertina la Fontana Sfera dell'artista Claudio Capodondi. Fu commissionata la Regione Lazio all'inizio degli anni 90, posizionata nel quartiere Murialdo e poi abbandonata lì. Per sapere qualcosa di più di questa Fontana ho contattato lo stesso autore e poi ho avuto anche del piacere di incontrarlo a Viterbo. Quindi è stata una certa emozione perché scrivere riguardo un'opera e poi incontrare il suo creatore, vederla pubblicata, comunque... È un'emozione. È un'emozione, certo. Certo. E per quanto riguarda invece proprio i contenuti, cos'è che, diciamo, ti convince ancora oggi di Descartes e cosa invece cambieresti? Allora, questa è una domanda un po' difficile. Comunque... Cerca di essere critico. È difficile perché comunque Descartes non è mai rimasta la stessa. Dal primo numero è sempre cambiato qualcosa e ogni numero cambia qualcosa. Comunque diciamo che l'obiettivo principale è anche questo che hai appena detto, che hai ricordato del primo numero, c'è quello anche di un recupero anche del territorio, della memoria anche collegata al territorio? Sì. Abbiamo una rubrica apposita che parla del territorio che si chiama non a caso il po' campo, che sarebbe la zona della memoria nel cervello. Sì, uno degli intenti principali della rivista è questo. La cosa è che la rivista è un bene che si occupi del territorio, però l'intento e la volontà che si occupi anche di argomenti che non siano solo ed esclusivamente riguardo al territorio. Al momento principalmente per questioni geografiche ci occupiamo di questo, ma... L'obiettivo è di ampliarci anche come distribuzione. Di crescere. Di crescere e arrivare anche nella provincia o comunque uscire anche un minimo dalla provincia sia come contenuti che come distribuzione. Quindi i cambiamenti che ci avverranno all'interno della rivista saranno mirati a questo. Quindi ne prevedete a breve raggio di cambiamenti? Sì, numero per numero, secondo quello che vediamo che potrebbe funzionare. Appunto, ripeto, la rivista adesso si rivolge a tutti quanti, non necessariamente a tutti quanti si interessa. Quindi a seconda delle... Ecco, a questo proposito, Manuel, come fate a... Visto che è in distribuzione gratuita, diciamo, qual è lo strumento che adottate per sentire il polso un po' della situazione, nel senso cosa ne pensa il lettore di voi? Sicuramente la migliore prova è rigirare nei posti dove è stata distribuita la rivista e vedere se la rivista, se il numero è rimasto lì oppure è stato portato via. Comunque, ascoltare anche le persone, i gestori dei locali, ci sono dei numeri che sono andati via a più di altri, forse per la copertina, forse per i contenuti. Non è mai facile comunque avere un riscontro perché di tutti i numeri non è che si può ascoltare uno per volta ogni lettore, però... Anche questo vi aiuta a crescere sicuramente. Sì, la maniera che utilizziamo maggiormente è questa, comunque, di vedere il successo che ogni numero, proprio in quanto a copie che sono state prese e in quanto tempo, hanno dei numeri che nel giro di un giorno in molti locali non ci sono più, qualcosa vorrebbe. Certo, e noi ringraziamo Manuel Gabrielli e soprattutto gli auguriamo, veramente, vista la giovanissima età, di proseguire in questo suo lavoro con la stessa costanza e la stessa voglia di fare che abbiamo percepito in queste sue parole. Grazie per noi e per noi è tutto da Radio Coop 76 e la radio di Conf Cooperative Viterbo.